Nelle prime ore della mattinata, oltre 40 agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzioni a 9 provvedimenti della Procura Generale della Repubblica di Bari, con cui si è disposta la cattura e la conduzione presso il carcere di Trani di alcuni membri del clan Pesce Pistillo. Si tratta di Nicola Bruno, Salvatore Mangino, Rosa Pistillo, Oscar Davide Pesce, Giuseppe Memeo, Riccardo Leonetti, Antonio Leonetti, Vincenzo Leonetti e Cosimo Damiano Manzi. La Cassazione respingendo i ricorsi degli interessati ha reso esecutivi i provvedimenti di restrizione che prevedono per gli arrestati svariati anni di carcere, arrivando per alcuni a dover scontare pene superiori agli 11 anni di reclusione. L'attività è la naturale conclusione delle precedenti operazioni Grande Fratello e Apocalisse, eseguite ad Andria nel corso del 2012-2014, con cui venne letteralmente sgominato il clan composto da oltre 60 affiliati. Operante ad Andria e facente capo a Luigi Pesce, soggetto attualmente detenuto e condannato a scontare circa 12 anni di carcere per il quale pende ancora il giudizio della Cassazione. In aggiunta alle misure detentive, l'organizzazione è stata colpita da svariate misure patrimoniali che hanno portato al sequestro di beni immobili per un valore superiore al milione di euro, tra cui un lussuoso appartamento ubicato in via Santa Chiara, proprio al centro di Andria, simbolo del potere acquisito nel tempo dal gruppo criminale, ubicato esattamente all'epicentro di quello che era divenuto il feudo del gruppo. Oltre 350 anni di carcere complessivi tra tutti gli indagati per l'attività delinquenziale posta in essere dagli affiliati. Quasi 40 anni di carcere si concretizzano solo per i soggetti catturati nella nottata. Al clan è stata altresì riconosciuta l'aggravante di avalersi di metodi mafiosi per porre in essere la propria attività criminale. Il gruppo operava nel cuore della città di Andria, esattamente nel centro storico, ponendo in essere un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, capillarmente e militarmente organizzata mediante collaudati sistemi di vedette e fattorini, il tutto sotto l'occhio vigile del capo clan, sempre presente nella principale piazza controllata, quale piazza Manfredi, anche con l'utilizzo di armi. Le investigazioni attuate denotarono senza dubbi la presenza di una fitta rete di spacciatori e clienti, anche abituali e spesso provenienti dalle città limitrofe, che si recavano nel centro cittadino per l'acquisto della sostanza stupefacente, quadro probatorio oggi definitivamente consacrato anche dalla Suprema Corte di Cassazione.